All'incontro convocato presso il Viminale per l'assegnazione ai comuni del Lazio dei beni confiscati alla mafia, non si è presentato nessun esponente di Ardea. Questo significa che l'amministrazione ha formalmente rinunciato alla loro gestione. Una scelta che ha creato un mare di polemiche, soprattutto se si considera che il comune è in dissesto finanziario e che gli immobili confiscati hanno un valore totale di oltre 2 milioni di euro. A gettare acqua sul fuoco ci pensa il sindaco Mario Savarese. Si tratta di una palazzina suddivisa abusivamente in 16 appartamenti attualmente occupati, ha dichiarato. Più che un vantaggio diventerebbe un problema sociale. Una volta sgomberati non siamo in grado di assicurare che le abitazioni non vengano occupate di nuovo. Osterissimi dubbi sulla reale possibilità di usare questi beni in favore della cittadinanza. Non passa giorno in cui il nostro sindaco non si ricopra di ridicolo, tuona la consigliera d'opposizione Raffaella Neocliti. Con le precedenti amministrazioni sono stati assegnati immobili fatiscenti ad associazioni che con impegno hanno creato ambienti idonei allo svolgimento delle loro finalità. Anche questi alloggi potevano essere messi a bando e assegnati.